Mi aspettavo perché se si guarda un po' dappertutto c'è corruzione. Ma ce ne libereremo mai secondo me? Non credo. C'era uno che rappresenta il Veneto, si chiamava Felice Maniero, forse era il più serio che avevamo. Vedendo quello che sta succedendo penso che dobbiamo meravigliarsi più di niente. Cioè la corruzione è un modo di vivere. Io dico quello che desidererei succedesse, che fanno i processi, che questi uomini non possano più entrare in politica e che tutti gli altri che in politica ci sono prendono insegnamento da questo che succede e si adeguino. Succede che succede, niente succede, succede quello che è successo sempre. C'è niente di nuovo? No, assolutamente. E adesso come andrà a finire? Si entra avanti lo stesso. Fa schifo. Ma lei si aspettava una cosa del genere? No, sinceramente. Pensava fosse finita quella stagione, diciamo? No, quello no, però no, non me l'aspettavo. Non così diffusa? Sì, non direttamente. Perché c'è tanti problemi anche nel nostro paese, anche qua, da tutta. E dov'è lei? Da Ucraina. Quindi una cosa internazionale, dice, che c'è dappertutto. C'è dappertutto, da tutto il mondo. È il nostro paese più grave da vostro adesso.